C'è una delusione, c'è rabbia, c'è rammarico, stiamo provando un pochino tutto. Avevo chiesto ai giocatori di dare il massimo di quello che avevano dentro di loro e questo l'hanno fatto. Hanno giocato con grandissima intensità per 90 minuti, grandissima determinazione, con buona lucidità a parte i primi 2-3 minuti. Abbiamo mossa molto bene la palla sul piano tattico, mi sembra che non abbiamo mai avuto scompensi. A contrario di quello che era accaduto nei primi 45 minuti della gara di andata, abbiamo creato numerose palle e gol, abbiamo segnato due gol. Dovevamo chiuderla nel primo tempo perché noi abbiamo avuto l'occasione di chiuderla nel primo tempo. Loro alla prima vera conclusione, a pochi minuti da termine, hanno trovato il gol. Ecco, aveva indovinato tutto Zaccarone, aveva detto prima o poi che un gol questi sono capaci di farlo. Dobbiamo farne tre. Noi abbiamo fatto di tutto per fare tre gol e francamente ce lo meritavamo anche, anche se in alcune situazioni siamo stati imprecisi. Però è altrettanto vero che forse più che contro l'Ajax abbiamo giocato contro il loro portiere. Analizzando i 180 minuti io dico che noi abbiamo fatto una partita e mezza a grandissimi livelli e loro hanno fatto solamente 45 minuti. Quindi se c'era un po' di giustizia avremmo superato il turno noi. Grazie!